A chi spetta l'onere della prova? Diritti e tributi, sigla! Abbiamo un peso enorme sulle spalle che finalmente ci siamo tolti, ben trovato all'avvocato tributarista Alessandro Dagnino come sempre partiamo dalla nostra immagine con il contribuente, poverino che si è portato a presso, per quanti anni questo peso enorme? Questa è ancora una volta una metafora che rappresenta in questo caso l'onere della prova il contribuente è in materia tributaria, nel processo tributario gravato in modo particolarmente come si vede dall'immagine sostenuta, sostanziosa dall'onere della prova L'onere della prova è una regola processuale molto importante che serve per prevenire che il rischio che le sentenze, quindi che i processi possano concludersi con delle sentenze come si suol dire di non liquid, cioè nel processo le parti devono ognuno provare i fatti a fondamento delle proprie domande, delle proprie richieste se nessuna delle parti riesce a provare il fatto che sostiene e che afferma il processo il processo non si può chiudere con una decisione di non liquid, cioè con una decisione di non decido il processo comunque deve portare ad una decisione quando nessuna delle parti riesce a fornire la prova soccombe la parte sulla quale gravava il relativo onere quindi la regola dell'onere della prova è una regola particolarmente importante perché la parte su cui grava l'onere della prova soccombe nell'ipotesi in cui il processo non ottenga la prova del fatto da questo affermato ora andiamo alla materia specifica tributaria il principio generale è quello contenuto dall'articolo 2697 del codice civile che codifica una massima risalente al diritto romano secondo cui onus probandi incumbit e equidicit non è la prova grava su colui che afferma il fatto io dico che un fatto è esistito devo dimostrarlo, non posso limitarmi a dire il processo non ammette solo il dire cioè non posso lanciare la pietra e ritirare la mano se dico una cosa devo provarla la parte all'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento delle proprie domande quindi cosa avviene nella particolare materia tributaria che il ricorso introduttivo del giudizio è proposto dal contribuente quindi il giudizio viene attivato dal contribuente solitamente nel processo civile non è la prova grava su chi? sull'attore perché l'attore che vuole qualcosa dal convenuto afferma che il convenuto deve dargli qualcosa quindi deve dimostrare la fondatezza delle proprie domande deve dimostrare il motivo per cui quel qualcosa deve essere dato quella somma di denaro deve essere pagata per cui c'è stato l'inarempimento di un contratto quindi di regola non è la prova grava sull'attore il processo tributario il giudizio è sempre incardinato dal contribuente che propone quindi l'atto introduttivo che nella materia tributaria si chiama ricorso è vero che il giudizio viene introdotto dal contribuente ma il contribuente introduce il giudizio per resistere ad una pretesa del fisco il giudizio viene introdotto per chiedere l'annullamento di un avviso da parte del fisco di una cartella, di un avviso di accertamento di una qualunque richiesta da parte del fisco se il fisco non chiedesse qualcosa al contribuente quest'ultimo non avrebbe nessun motivo di avviare il giudizio starebbe bello tranquillo a farsi il suo lavoro quindi cosa abbiamo? Abbiamo una sorta di inversione nelle parti per cui il processo viene introdotto dal contribuente ma il contribuente è convenuto in senso sostanziale l'attore in senso sostanziale è invece l'agenzia dell'entrata che ha lanciato la prima pietra dicendo mi devi dare questi soldi il contribuente si attiva la causa ma lo attiva per resistere alla pretesa del fisco quindi la regola dovrebbe essere che il fisco deve sempre provare le ragioni della sua pretesa che ha generato l'avvio del giudizio tuttavia la giurisprudenza della Corte di Cassazione negli anni ha un po' smorzato anzi ha notevolmente smorzato questo onere questo principio dell'onere a carico della parte che è attrice sostanziale e ha detto che in realtà ciascuna delle parti deve provare i fatti a sé favorevoli quindi cosa succede? che il fisco secondo la Corte di Cassazione deve provare gli elementi attivi la fondatezza del reddito se io ho un reddito tu hai fatto un reddito hai incassato 10.000 euro ti devo dimostrare che quei 10.000 euro sono stati prodotti il contribuente deve dimostrare che cosa? i costi o gli elementi comunque passivi gli elementi negativi che determinano una riduzione di quei 10.000 euro sì è vero che ho fatto 10.000 euro di ricavi però ho fatto anche 7.000 euro di costi per esempio quindi il mio reddito non è 10.000 ma è 3.000 quindi c'è questo tema per cui ciascuna delle parti deve collaborare il principio della collaborazione è un principio sacrosanto è anche stabilito dall'articolo 88 del codice di processo civile il principio di lealtà e probità delle parti nel processo cioè le parti devono collaborare per l'accertamento della verità non devono adottare comportamenti come dire soltanto volti a nascondersi o a trincerarsi dietro silenzi eccessivi quindi non è mai accettato nel processo ormai diciamo da diversi anni quella strategia che un tempo veniva utilizzata per cui uno cerca di non dire bisogna contribuire se ho le prove devo portarle esatto ciascuno deve contribuire deve fare alla sua parte per consentire al giudice di accertare la verità però che cos'è accaduto? che nella materia tributaria si è fatto largo uso delle presunzioni cioè questo istituto delle presunzioni presunzione che cosa significa? significa che il fisco può presumere partendo da un fatto noto un fatto ignorato cioè se io ho la conoscenza di un fatto da quel fatto posso dedurre un altro fatto la presunzione cosa comporta? comporta l'inversione nell'onore della prova cioè se io elaboro un ragionamento che è sufficiente per fondare una presunzione allora deve essere l'altra parte in questo caso il contribuente a dimostrare che quella presunzione non è fondata se ne è fatto larghissimo uso ci sono presunzioni legali ma moltissime presunzioni di natura giurisprudenziale per esempio la giurisprudenza ha detto che nel caso di società ristretta con pagina sociale cioè società fatte da membri di una stessa famiglia ad esempio se si accerta l'esistenza di un reddito in nero prodotto dalla società si presume che quel reddito in nero sia stato distribuito in nero e quindi si accerta direttamente anche la persona fisica dei soci per i debiti della società di capitale tutto questo ha diventato sempre più importante sempre più rilevante nell'ambito dei processi l'uso delle presunzioni a favore del fisco fino a quando il legislatore non è intervenuto con una interessantissima norma introdotta con leggi 130 del 2022 e ha detto basta ha cercato di liberare il contribuente dall'onore della prova che per tanto tempo è gravato in maniera così pesante così difficile come smonto una presunzione a volte si dice ed è un principio anche di diritto di antica affermazione a volte per smontare una presunzione è necessaria una probazio diabolica cioè una prova un'onore alla prova diabolica perché sostanzialmente impossibile da osservare perché non riesco se mi trovo di fronte a una presunzione a dimostrare che un fatto non è come provo io il fatto negativo se si presume che io abbia fatto qualcosa come faccio io a provare di non averla fatta la prova del fatto negativo è come si dice tradizionalmente una probazio diabolica ora la norma a un certo punto è il frutto di una reazione da parte del legislatore al sempre più ampio uso delle presunzioni in materia tributaria avallato e sigillato tante volte da parte della Corte di Cassazione e ha detto nel modo più chiaro possibile l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato quindi subito dice prova l'amministrazione il giudice fonda la decisione su elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto in positivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale cioè più chiaro di positivo si può essere comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni cioè si dice sostanzialmente che questa norma basta dell'ufficio deve provare non può basare la richiesta di pagamento di somme di denaro in modo coercitivo attraverso dei benefici processuali o anche sostanziali o procedimentali che determinano l'inversione della prova cioè sempre l'ufficio che deve provare e il contribuente va sollevato dalla pretesa fiscale nel caso di insufficienza di prova un po' potremmo usare nel linguaggio penalistico si dice assoluzione per insufficienza di prova ecco non si può condannare il contribuente se la prova non è una prova piena fornita all'ufficio tra puntuali circostanziale e oggettiva mi pare che è più chiaro di così in realtà non è così chiaro perché la giurisprudenza alcune pronunce contraddittorie da parte della giurisprudenza alcune sentenze hanno in un obbito in degli obbiter dicta cioè in delle statuzioni incidentali che non erano l'oggetto della causa ma come dire tra le righe hanno detto che in realtà forse questa norma non cambia granché ma come si fa a dire che non cambia granché se la norma è stata scritta nel modo più chiaro che si potesse tentare di realizzare e infatti vi è già un contrasto da parte della giurisprudenza perché si registrano numerosi casi c'è una corte di giustizia tributaria di Enne in Sicilia ce n'è una di Reggio Emilia ce n'è una di Treviso che dicono per esempio l'ufficio deve provare in maniera completa e non può invertire l'onore della prova a carico del contribuente quindi speriamo che questa norma verrà elaborata dalla giurisprudenza nel senso che a tutti appare palese secondo la lettura della disposizione ne consenta quindi di liberare il contribuente da questo enorme sovraccarico dell'onore della prova avuto fino ad oggi grazie grazie all'avvocato tributarista Alessandro Dagnino che il contribuente sia un po' più leggero da ora in avanti questo ce l'auguriamo alla prossima grazie a tutti